Pomo le ragazze del 46. E fu un giorno bellissimo. I mariti con le mogli, i babbi con i figlioli, con le figlioli che non avevano mai votato e votavano. Non c'era un uomo che non ci avesse accanto la figliola, la moglie. Ci furono un milione di voti di donne alla Repubblica più che di voti di uomini. Come dico sempre, la Repubblica l'abbiamo un po' fatta noi. Veramente fu la novità che ci cambiò la vita.